Sagittario, sei diventato ribelle in amore e molto più creativo nell'ambito del lavoro. Pare proprio che da questo punto di vista le questioni professionali, pratiche della tua vita, abbiano un peso maggiore rispetto a tutto il resto. E questa giornata di domenica favorisce proprio il rapporto con gli altri. Quindi, se hai avuto dei dubbi a livello sentimentale, sarebbe il caso di risolverli. Comunque, come ripeto spesso, novembre avrà un sorriso in più per te da questo punto di vista. Tu che sei il segno più ottimista dello zodiaco, non devi essere vittima di malinconie.